Per far sentire il nostro, quando saranno qui, e per tutta quest'anno grazie a tutti i tecnici, a voi, alla nostra casa di schegaspera, ai nostri produttori, grazie di cuore, noi siamo i nostri. Per far sentire il nostro, quando saranno qui, e per tutta quest'anno grazie a tutti i tecnici, a voi, alla nostra casa di schegaspera, ai nostri produttori, grazie di cuore, noi siamo i nostri. Per far sentire il nostro, quando saranno qui, e per tutta quest'anno grazie a tutti i tecnici, a voi, alla nostra casa di schegaspera, ai nostri produttori, grazie di cuore, noi siamo i nostri produttori, grazie di cuore, noi siamo i nostri produttori, grazie a tutti 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 i nostri produttori, gra Grazie a tutti. 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 Brindisi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.